In tempo di bilanci, Piero Cesanelli di Musicultura di questa edizione 2016, quali sono le novità uscite a tuo parere? Le novità sono una ulteriore partecipazione del pubblico che è stato ancora più numeroso e partecipi negli altri anni, se forse era possibile. E questo è avvenuto. Una, direi, competenza da parte della platea che ascoltava, nell'ascoltare anche proposte che non erano certo facili, di prima apprezzione, voglio dire, tipo il jensenese con Napoli Centrale, Roberto Pernato con il 7k4. E poi il fatto di aver proposto al pubblico presente delle novità a livello di canzoni degli otto vincitori. Grazie.